Terra è un'associazione ambientalista a livello nazionale che sviluppa il proprio lavoro sia attraverso campagne a livello nazionale che progetti locali volti proprio a rivolgere uno sguardo nuovo verso l'ambiente che unisca l'ecologia e il sociale. Le nostre battaglie quindi prendono maggior vigore dalla grande avventura di Filiera Sporca che ci ha portato davvero grandi soddisfazioni e grandi risultati. Filiera Sporca ha avuto l'obiettivo di identificare quelle che erano narrate come delle problematiche di cronaca, quindi lo sfruttamento ad esempio di braccianti facendola quindi diventare invece un argomento più di insieme. Terra quindi lavora per riuscire a dare importanza e rilevanza a un'urgenza che è impellente nei nostri tempi ovvero quella di riunire la società civile e il mondo produttivo intorno ad un unico tavolo di riflessione. Un esempio è il lavoro che stiamo portando avanti dal 2021 a Roma di proposta insieme ad altre associazioni di avviare il consiglio del cibo ovvero un tavolo permanente di discussione e di proposte partecipato e composto dai principali attori della produzione e le istituzioni. Un modo quindi per unire l'accessibilità e stimolare e agevolare l'accesso a cibo di filiera corta e di agricoltura ecologica nelle città quindi a livello locale. E anche Genova deve tenere diciamo il passo e quindi mi auguro che questo tipo di approccio quindi di una politica del cibo locale e partecipato possa davvero entrare nel dibattito politico della nostra città.